Anfascio a tutti ragazzi, qui è il cane lupo E bentornati nella rotto platino Parte set ragazzi, questo account io lo voglio portare in alto E per questo sarò vinto Comunque ragazzi volevo farvi un piccolo resoconto Della 24 ore, io sto facendo questo video Lo stesso giorno in cui ho finito la 24 ore Solo che me ne sono addormentato come me ne sono svegliato Io pensavo veramente fosse Oh, c'è questo webcam Pensavo che veramente fosse più facile Pensavo veramente che fosse più facile Innanzitutto ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito Che all'incirca sarei sempre 300 Di media, siamo arrivati anche a 450 E soprattutto Soprattutto Il fatto che Disi era tardi verso le 5 Verso le 5 No, siamo comunque rimasti in 150 Questa è una cosa che mi è piaciuta molto Mi è piaciuta molta Cioè già sono rincovinito Pensavo veramente che fosse più facile Forse il fatto che mi è disorientato Sia Che avendo una routine Da scolare, no? Quindi svegliarmi Masina presto Andare a dormire Comunque presto Avere sempre quelle 8 ore di sonno Mi abbia portato Questo Poi io mi ero svegliato anche 4 ore prima della maratona Perché ero un po' ansioso, no? Non so perché però Così, quindi Perché se io prendo P-top C'ho purgo 8-top Per quale cazzo di motivo? Iniziamo di E poi ci sono state anche Tante donazioni Per il totale di 50 euro, no? Le mando anche Le cose di Paypal Le tasse della Paypal In totale sono state 50 euro E grizi a tutti Veramente tante Quello mi dice Farò qualcosa Per il pc Credo Mi scrivendo anche I soldi con la partner Perché mi dovrebbero arrivare Le 15 Mi arrivo su 210 euro E mi ci posso comprare qualcosa Su Amazon Per il pc Vediamo un po' Ragazzi Quest'account Deve arrivare in alto Quest'account Lo voglio portare In die on Ho deciso E tryharderò Ora Il punto è Voi Volete che vi faccia vedere Tutti i video Di questo Tryharding O Va bene Magari che ne so Uno su tre In senso Magari ve li trovate A un certo punto Che io sto gold a due E non sapete neanche com'è In questo senso Scrivetevi in descrizione Raga E ora Si inizia a giocare Bene Raga Guardate che per lei E' sublenda Mi piace un casino Mi piace a voi Bella Mi piace Bella Bella Comunque lo streaming E' andato anche abbastanza bene Per via Pensavo che per la lag Si riunesse un po' Lo streaming No Invece comunque Si vedeva L'effetto saboso Comunque Perché la commissione è quella Non è che Oh Però Si riusciva a vedere Questa E' una bella cosa Cazzo Una seconda porterò la cu Perché sennò Non ci posso mai avvicinare lui No No C'è tutto Buggato Mannagliala Oh La vuoi una in the face Una in the face Boo Ma l'ho preso Ma ne vuole un'altra Un'esame Boo Certo che lo riesce V-top New meta Mi hanno chiesto in tanti Com'è secondo te V-top Yasuo top Z-top Li proverò tutti Tutti Una a una Che poi Poi li proverò anche col meno Ovviamente Non vi crediate Non vi crediate Boo Comunque L'elo di crucio È veramente alto È veramente tanto alto Certo che Oh 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 Credo che ci maxeremo la E C'ho tutto buggato LOL C'hanno jungler Mi potrebbe gankare Zinn è sicuramente gankare Spare che inizia così Poi ha ancora un jump molto forte Di questa meta E' Katarina top Molto forte C'è oddio Ci ho gli spell che non si vedono Non si vedono neanche le pozioni Che bug Come primo video ci facciamo la Black Leaver ragazzi Che subito una cosa assurda Black Leaver Perché stacca quella W Cioè Boh Annaccia a me Quindi Black Leaver Mi sento il Brutalizer Forse la Triforce ma non credo Sennò poi vado troppo indietro Se no poi vado troppo indietro Questo c'ho l'exos e l'ha usato Però anche se non ci vedeva niente Ovviamente Bravo Bravo Sono molto bravo a spiegare mana Però lo sai Sarà duro da buttare Gurgot Però noi ci prendiamo la passiva Infatti mi sa che non lo devo max alla line Devo max alla W Ma vedete lei che arrasse Fa quel Brutalizer che ce lo sento Ovviamente Ho sputtato solo un po' di mano Prendo io ci potrei partire Non ho abbastanza mana Non me lo filerei Ok 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 Comunque sono resistito 19 ore alla stream Quindi neanche poco no C'è una botta Allora Questo Scarfio andrà più veloce Una W Perché le simpe Un falstron su Un falstron su Forse servono più forse tra vita Che mana Per il semplice fatto Quello Wurgot Dovrebbe tornare con una goccia E Tornando con una goccia Il signor Wurgot Potrebbe fare un culo Tanto Enorme Tanto Troppo Se troppo Quindi È meglio andare sul sicuro Ora Ora che abbiamo Tutto il Razer Abbiamo tanti danni Abbiamo tanta Armored Prendo Proprio L'unica cosa è che C'è un'effetto di scarto Ora tipo Ci dovrebbe qualcuno O cosa del genere No I danni Eh Mo si maxa Per il B I danni Del signor Wurgot E il macellaro Sono tanti Rega Sono tanti Eh Che è un b***h Che è un b***h Come on I wanna fight I wanna fight I wanna fight Rega Avete visto il gotti danni che fa Porca Troia Ci servono Duplo tarmo Ma si Ma sono solo Duplo tarmo 30 tarmo Oltre più Double clivern Nei Devo anche Si chiederà subito Guarda Le divicar Com'è Oddio Ho tutto Buggato Ho dovuto fare Quel flash Perché se no Mi avrebbe Probabilmente Killato Facendo quel flash Io l'ho in un lato Probabilmente Mezzo secondo Di exodus E i suoi auto attacco Perché non mi poteva vedere Dentro il bash Infatti Più fan di lui E poi lui si è fatto a grattare Eh Vuoi dire il moschio Quella cosa Perché non ha capito Che è successo dopo Ho Dove Mi serve solo Che si ricarica Un po' più velocemente L'arassiamolo E' così l'arassiamo Ora portiamo una sorta W Ora portiamo la Q E infatti la maxa di Nirling giusto per avere un po' di bocca, no? Dopo il minion Oh, ecco Ti spacco la fascia Ah, oh, oh, basta, regalo Non regaliamo qua perché sicuramente per acqua e rompere il cazzo, sì, eh Potrebbe essere poi Guarda, tutta burra la doppia W e bacala Comunque, regalo, hai detto anche del fatto che le pubblicità sono troppe Comunque, io in totale metto un minuto di pubblicità Poi avere suddivisa e voi mi avete detto che potrebbe ricaricare il video, no? Quindi mandarlo in buffing Giusta cosa non la sapevo, quindi ora Ehm Quindi ora Metterò solo due pubblicità Una all'inizio e una in mezzo Meno così Non la decido io la durata di quelle pubblicità Però, vabbè, se vi da fastidio a molti di voi Io voglio venire sempre incontro, quindi Mi metterò due Una all'inizio, che è sempre quella solita E una e mezzo A metà video Ma che cazzo ti aspettavo che c'erò? Mi ha fatto un bel bait Mica me lo aspettavo di sin là Mi dice Non me lo sarei mai aspettato Porca boia Ma perdo tutta quella farm Eh, comunque le farm stiamo sempre sopra Lui ne ha 56, non ne abbiamo 82 Cadillyn sta solo farmando botte come Tristana Però la differenza è che Tristana c'è una BF e Cadillyn c'è un Brigades Buona qualcosa, che Tristana si è abitata subito la BF Invece che le scarpe, intanto abbiamo un Ame noi Buona mid Uno Due Tre Tre Ole Boom W E ora c'è Maximo solo la Q Aaaaaaah Ma davvero un casino quello che si passano Le ragazze eh Uppate 112 Non dobbiamo mandare i Minion Nostri là sotto Perché sennò ci arrasta lui E comanda lui Quindi conviene far problemi qua Non dobbiamo andare a BF Ok 2 2 2 2 1 2 3 3 4 1 4 Ora è morto, sotto d'ora me lo pilla C'ho la Q C'ho lo smite C'ho l'ignite C'ho lo smite Sì 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 Finisci il mana, finisci Finisci il mana, finisci Finisci il mana, finisci Non si è ripullato Sì 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 La razza è povera, non era mai che abbiamo chissato Pure l'attacco del datore è buggato Che fa tutti questi bug? Tutti questi bug, incredibile Troppi bug Troppi bug So many bugs, here Merda Oh, perchè mi vedete? Oh, mi vedo strano a 5 bug Che cazzo Trattando a 5 bug Buono, allora La botte sta vincendo No Sì Nid va bene Urio sta facendo un ottimo lavoro E io, Urga, sto sempre a sapere di un livello Tanto non mi serve Non sarebbe servito a nulla Andare dopo in quel momento Se trovo aiutami Vega Così, benissimo La notica Così, benissimo La notica Che palle Sono due volte che abbiamo beccato là fuori Lo stronzo che c'ho avuto Vabbè Vabbè Drago Quenti bug Ma adesso Fredrick Mi serve come Non so cosa Buono Puma Strike Tu 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 Mi piace? G Mio Mi piace? G Vediamoci questa torre Sennò Jin sarà sempre a fare un percazzo Oh 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 Sì ma... TOWER! La dura legge della torre, ora è una barba cleaver, eh sì che andiamo bene La verità va uno per uno sempre quindi A me va bene perchè morì prima di lui quindi l'exper la prendo solo io da kill C'è un fogo da fare Voglia Buono botto che stanno a far culo Buonissimo Guarda c'è solo un infiliage, ho detto no Io guarda mi fermo con l'infinity, è il jungler stesso Sì è vero Siamo a 67 punti gold 4 ragazzi In streaming ho fatto la propria gold 3, ne abbiamo perso il 2 e vinto una Purtroppo ci sono capitati dei team che non sapevano amministrarsi Però... Sto trovando a me non ci farei di C con stan count Molto nerdo Poo 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 Basta, non possiamo fattarli in mezzo di nessuno Non vale proprio il caso Immaginavo che ci fosse le sin, a merda Lo sapevo che c'era le sin, ho detto come ho da mettere la ward là Guardate Ward Ward Sto coglioni Boh Eh Alisin e basta, camperatrove No C'ho quel presidimento, intimo questo e sta un'altra volta qua, fammelo guardà Mamma mia, il sesto senso di Erkiane C'è pure il rosso, non so, sai Non sa che ce l'ha lui quello del... no, non ce l'ha lui C'ho fatto questo, il mio modo Mignite è buggeato So io stronzo eh, per carità, però non pensavo che venissi a guardare là Vabbè Come ho detto prima, non ci stanno degli incippalitici Sì Ma ne mancano certi goal Mamma mia le pigne Vabbè 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 Non è che vuoi Ah Cosa è roto è volata con un 7 e qui ti bag Mi ha fatto il bambino Mi ha fatto il bambino 2 per 1 Giudiana la buttana E' un pazzo Sbeghiamo domani, sbeghiamo Si è tirato un po' la giacca, ci beghiamo Mamma mia, cheat and scary movie Quando ci sta, quello che si fa sempre le gambe, no? Che gli dice, quell'altra, quella un po' più subida, quella tipo matta Devi essere più scialla, sorella Ci becchiamo? Stai tirando sul top, culo, giacca Ci becchiamo? Madonna Poi arriva e mi fa Stai tirando sul top, culo, giacca Ci becchiamo? Mamma mia Sky movie, grande firma Mamma mia Mi hanno fatto sempre manzare le risate Nooo Andiamo a chiudere questo match Is it the time? Oh, gg Vai, chia Oh, is it the time Vinto ragazzi Vinto, siamo troppo forti Siamo troppo forti ragazzi Non c'ho un cazzo da fare Quando uno è forte Quando uno è forte È forte Ragazzi, allora Io spero che questo video vi sia piaciuto Come al solito Per tutto il Rotto Platinum Abbiamo preso Io ho 77 punti Quindi abbiamo preso più di 23 punti Sicuro In promotion Come a tutto il Rotto Platinum Ragazzi, voglio 300 like Se vi è piaciuto Lasciate un bel like Quindi 300 like Un bel commento Se vi va Condividete Affaccia a tutti ragazzi Da che vi può Bella